Ciao Maria Luisa, buongiorno. Allen2 è qui con noi a Caledoscopio Italia 2014 a Budapest. Con quali aspettative siete venuti con il vostro brand di pelletteria qui alla fiera Caledoscopio Italia? Siamo venuti qui grazie anche all'aiuto dell'Istituto ITA, l'Italian Trade Agency, e avevamo appunto l'obiettivo di internazionalizzare quanto ancora più possibile la nostra azienda che si occupa della produzione soprattutto di cinture e accessori in pelle da uomo, esclusivamente made in Italy, certificati 100% made in Italy, ovvero realizzati anche con materie di originalità italiana. E appunto volevamo proprio internazionalizzare e conoscere nuove distribuzioni e clienti interessati proprio all'acquisto dei prodotti italiani, di pelletteria italiana. Siete soddisfatti dall'interesse che state raccogliendo? Sì, abbastanza. Purtroppo non ci siamo organizzati per quanto riguarda la vendita a dettaglio. Vediamo che qui a Caledoscopio c'è un forte interesse anche da parte del singolo, delle persone ad acquistare personalmente quelli che sono i prodotti made in Italy. E quali prodotti in particolare hanno riscosso interesse? Soprattutto le cinture maggiormente, parliamo di articoli vintage tipo questi, gli intrecciati fatti a mano, le cinture reversibili. Oddio, questo è un po' più complicato, ma strano. Possono essere utilizzate in ambo i lati, sia così, in questo modo. Dubble fast. Dubble fast. Va bene, grazie mille e buon proseguimento. Ciao, buona giornata.